Allora, Samu gioca con noi, mi raccomando Samu Vabbè, solo Cishon è rimasto che ruba, dai Samu, com'è messo? È messo bene? Samu? Speriamo bene, non lo so, non voglio vantarmi Prima lasciamo al campo la parola Samu, ma sei la Fajoski? Sei la Fajoski? Sì, sì, certo La Fajoski Sì, è un tossico, però secondo me è preparato Allora Ma ti sei visto? Eh no, io so che sembra un tossico Ma non lo sono Però non si è preparato Allora, che vuoi fare? Vogliamo fare quella direttamente che vi sfidate? Oppure vuoi fare tutta la cosa? Tris, dici? Dai, facciamo il Tris Facciamo la meglio delle tre di Tris, dai Vai, vai, vai Aspetta, aspetta, inizio Vabbè, tanto non c'è il tempo Chi inizia? Squadra 1 è Ciscione E voi siete la 2 Quindi questo turno Quello dopo iniziamo noi Prego Ciscione Allora 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 Io farei Argentina Argentina-Milan, io ce l'ho Eh sì Facciamo quello Biglia Sì, pure Pellegrino Vabbè Dai Poi Secondo me Secondo me Secondo me Torre Non so tu si è esperto in questi giochi Io credo che ci convenga A bloccare dal centro Sì Però in verità potremmo fare Potremmo fare Bologna-Argentina Secondo me potrebbe essere Io dico Io dico Torino-Juve Farei Subito E tu Perché tu faresti No aspetta No scusa Darmi Anna Darmi Anna Aspetta Ma scusi Ma perché Lei si spacciato per la Paglioschi Dai porco zio Ma che cazzo fa Torino-Juve Ogbonna 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 Ma stia zitto Ce ne sono un miliardo di Torino-Juve Si calmi Vanno bene tutti Ogbonna 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 Ma che è Scusi Ho trovato l'identità Ma poi fa finta di niente Continua a sparare nomi a caso Sì sì A me non si sente Allora Io c'ho Juve-Uruguay No aspetta Io Bologna-Uruguay Io Bologna-Uruguay Secondo me lo dobbiamo fare Lui della foto Si umilia un po' Io pensavo Che mettavo a fare Supercazzola Tipo quelle cose Che dici Sì Di questo cazzo Quello io risposto sì Torino-Milan No Agu ce l'ho Eh no Però poi con loro vanno là All'altro Secondo me li dobbiamo Mettere là O in un angolo Sì va bene Non è che dobbiamo fare Le due e mezzo Allora Sì però Agu Torino-Milan Poi Cioè nel senso Poi loro O trovano Uruguay-Milan Oppure hanno perso Vabbè Facciamo così Torino-Milan che c'hai? Riccardo Rodriguez Immenso Immenso Qual è? Cristian Riccardo Rodriguez Come dici? Riccardo Rodriguez Del Torino Ma se scrivi Ma che ha sbagliato A scrivere il nome No no Tocca a noi Riccardo Rodriguez Gioca Almentina 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 Ma che cazzo fai Siamo qui Porco zio Ma si sincronizzi Almeno Allora Uruguay-Milan Secondo voi Ce lo possono mai avere? A meno che Non stiano rubando Ah ce l'hai Uruguay-Milan? Sì Eh diciamolo allora Vai Perché l'ho visto Un po' di schiaffino È immenso Vabbè Famosissimo Schiaffino Mi credo Siamo forse Roberto Prova Ma cosa è Schiaffino? Eh famosissimo Schiaffino Ma che cazzo dici Perché non ce lo dà? Perché non esiste Ma chi è Schiaffino? No no È famosissimo Schiaffino Me lo nominava sempre mio nono Ma sì ma fa post Schiattarella c'è Provo Schiattarella Scappacasse Magari da un anno in poi C'hanno Grande talento Scappacasse Bello Aspetta un attimo C'erai Milano Uruguay? Vabbè ragazzi Sta diventando una barzelletta Dica dica Torre Eh no Chi le va a Manfredi C'è la Milano Uruguay No Per il momento Non mi viene assolutamente Io ce l'ho Ma anch'io Ci voleva avere uno No Secondo me Tipo il Milan Ha avuto Tipo una Merda L'Axalt Uruguayano L'Axalt Ah sì bravo Buona questa Sì Infatti veni a me Ma tanto non ce l'avevano loro Allora Argentina Bologna Io non so sicuro Perché quello è Uruguayano Argentino Dominguez Occhio No no È argentino Dominguez Argentino Dominguez Vado Chiaccia? Dai Chi lo è Sono troppo forte Juventus Argentina Di balla Copriamo Il buco là Sì E mo ce lo devono coprire Loro Uruguay Juventus Betancur Finita C'era anche C'era anche Caceres Ma L'uniche sono loro Ma i giocatori Che non giocano più Valgono Sì Sì Li dobbiamo bloccare Allora Aspetta Allora Riusciamo a bloccare Raga Raga Vi metto un minuto È di tempo Se no ci vuole troppo Torino Bologna Ce ne sono stati Un sacco Ci sono scambiati De Silvestri Torino Bologna Sì Dovrebbe essere De Silvestri E lo prendono nel culo Fareggio Allora Aumentiamo la difficoltà Vai Così era un po' semplice Mettendo L'Inghilterra Ma come l'Inghilterra? Ma scusa Ma non potevi mettere European E quello è più facile Mettimi lo si taglia Non No È troppo facile Eh Mettile Eh Minchia Allora Iniziamo noi Stavolta Champions League Vuol dire che l'ha vinta Allora Blocchiamoci raga Un angolo facile Che poi Igo E gli difficili Ce ne andiamo a trovare Ci blocchiamo Barcellona Champions Io farei centro No No Secondo me devi partire Da un angolo Facile Mettiamo Barcellona Champions Messi direi Vai Vai Mettiamo Messi Dove? A Barcellona Champions Vai Allora Liverpool Arsenal Lo sappiamo Augu Io Mi è venuto in mente Adesso Un Uruguayano Dell'Arsenal No Però Dobbiamo fare Il centro Liverpool Arsenal Chi è? Chamber Ochtelan Chamberlain Lo volevo dire io Immenso I membri Pantolino Immenso Bravo Pandorino Vabbè io farei Barcellona Uruguay Arauto Buono Buono Va bene Va bene Va bene Allora La tua squadra Potevi aspettare Un attimo Barcellona Liverpool Dobbiamo fare Non c'è Scusa Tiago Quello Alcantra Quello ha smesso Stava al Barcellona Sì Sì C'era uno più facile E di Bravissimo Immenso 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 Io Martiglia Liverpool Ce l'ho No Aspetta Marsiglia Livio è pure facilissimo Raga Un minuto Non è Balotelli Ah bravo No Balotelli Si è giocato nel Marsiglio Aspetta No 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 Sicuri La casetta 35 secondi Ha giocato nel Lione Ah nel Lione Vero 30 secondi Aspettare Dai Eh no È difficile però Marsiglia Livio è quella difficile No io ce l'ho Vai Balotelli 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 Provalo Provalo Secondo me c'è Schifo Dai ma porco zio Ma perché non mi ha ascoltato Ma Balotelli Quando è che ha giocato il Marsiglio Ha giocato Allora Allora Io ho Arsenal L'Uruguay Ce l'ho E allora cerchiamo Far Arsenal Champions League Dobbiamo far Arsenal Champions League Henry l'ha vinta La Champions Col Barcellona 2-3 L'ha vinta Non mi ricordo E' zitto Bestia Non mi ha arretta Con pre-sprende Henry 3-3 Champions ha vinto lì Oh No vabbè Overmars Mi mi mette di bocca Minchia Overmars La Champions League Arsenal Lo sai che Lo sai che Allora Ciccione Ti do un consiglio Non deve giocare Non deve averla vinta Con l'Arsenal Esatto Lo so È overmars Gioca forse con l'Ajax Ha vinto Puglione Pure Marsiglia Champions League E provala Provala Tocca loro Eh sì sì Provala Scusa Henry è giusto Henry l'ha vinta Con la Barcellona Era il tridente Chi era Messi Un minuto Dammi un nome Dammi un nome Un minuto Dammi un nome Ehm Overmars Henry Provo Overmars Forza per Scusa In finale Scusa Scusa In quell'Ajax Arsenal Uruguay Ci vuole Bravissimo Bravo 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 Vedi che sei anche utile Samu Vedi bravo Vabbè Ehm Ma stavo sincronizzato male All'inizio Marsiglia Champions League Manfredi se lo ricorderà bene Bolli Segnato lui Ma io Quindi ci lasci vincere Ma tanto non ce l'hanno figure Sì c'è l'hanno Semplice Enti sette secondi Ma come ti sento Ma aspetta che Sanno anche loro Ma scisci Non c'hanno anche loro Ma vedi che è uscito C'è caso su internet Marsiglia Uruguay Top Se vuoi provarne uno Vabbè metti Bolli E là Eh sì Ciao No Basiboli Che Willy Bolli Basiboli Aspetta aspetta C'è scritto qua Aspetta aspetta Come è scritto E che cazzo ne so Era quella segnata finale Ma no forse Con ai Basiboli questo Eh sì questo Ok Ok a voi Un minuto Di paterne Vabbè Bolli ha smegnato Come non vedete No regà Non tocca a me Non tocca a me Le manfredi Dicono che non vedono Ah Scusa adesso No adesso mi sa che Che è tornato Perdonate Hai cosa qui Marsiglia Cazzo Uruguayana Della Liga Ce n'avevo uno Arevalo Rios Proviamo Che ne so Chi? Arevalo Rios Si chiama Mi sembra Non so se ha giocato Nel Marsiglia Forse Vabbè Sei beccato questa Minchino No che sei furto Se questo è Ha rubato Ah fratello da telefono Non può neanche cercare Ma che cazzo Un po' cercava No No Ci blocava nel porto Non mi ricordo Se giocava pure nel Marsiglia Non credo Oh scrivi Arevalo Rios Ho detto Eh mancava così No Ma scrivi Rios Rios No ma mannaggia la mignota Bene Vabbè Non so che cazzo Dai Dai ultima Ultima Alla terza si decide Che è? Francescoli No dai Vabbè Come si fa? Cazzo Francescoli Dai Oh decisiva Andiamo su Italia Vai Ma facciamo Siamo di nuovo European No vai Vai su Vai su Italia Vai su Italia Dai Vabbè l'Italia è più difficile Eh sì Così cerchiamo di Sì no vai Hai ragione Neuropean Neuropean Dai Allora aspetta Che cos'è La prima Chi ha giocato con Lukaku Chi ha giocato con Zidane Ma che è? Marocco E Zidane il secondo E Zidane No il secondo sotto No è Guardiola Allenato da Guardiola Scusate Compagno di squadra di Lukaku Compagno di squadra Allenato da Zidane No Compagno di squadra è Zidane Team mate Ah compagno di squadra di Zidane Tocca a noi o tocca a loro Tocca a loro Tocca a loro questo Lugaku Marocco che è Hakimi Hakimi è marocchino Se non la sei tu Sì Hakimi Andrea Allora Uno allenato Da Guardiola Che ha giocato Nel Liverpool Sterling Sterling Bravo Bravo Sterling Vai Bayer Monaco Marocco Mazraoui Mazraoui Che bravi Ma Marocchino allenato da Guardiola Non è Marez È marocchino Marez No Marez Algerino Oh ti devi stare zitto donna Porco zio Bastardo Ti devi stare zitto Bastardo Bastardo Allora Aspetta Bastardo Vedi ma non si può Non ci concentra sto coglione Scusami Torre 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 Guardiola ha avuto Barcellona Bayer Monaco E Manchester City Giusto E appunto E Marocchino Che cazzo ha avuto Marocchino Marocchino Si sono tanti 20 secondi Conosciuti Ma non mi viene Porco zio Marocco Dai facciamo uno Che ha giocato Facciamo un altro Dai Vabbè dai No non tocca a me Non so Vabbè dai Quella non la sappiamo Facciamo un altro Fai Bayer Monaco Liverpool Tiago Alcantara Poi vediamo Dai Allora Marocco Guardiola Andiamo con la Nazionale del Marocco Bonù in porta Non l'ha allenato Poi Ziyech 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 non l'ha mai allenato Guardiola Allora Ma non è che Mazraoui Stava Può essere No Sì Ha fatto capocannoniere Poi potremmo Mi viene in mente Amrabat Ci ci fa Ci ci fa Guardiola L'ha allenato No 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 L'ha allenato Tenag Secondo me qualche roba Di Allora pensiamo Benatia Benatia stava al Bayer Monaco Dove 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 Andate al Bayer Monaco Mi sa che non credo No Si può giocare così Vedè Ma no Ma no Gli ha detto lui Per qualcosa Come oh Vedè No Non si va Che sai chi non vale Dai Non vale Ma che schifo è oh Non vale Non vale Il coglione Il coglione Ma non vale